Abbiamo trovato un CTO o un fractional CTO, abbiamo capito come lavorarci insieme e a un certo punto bisogna anche capire se sta facendo un buon lavoro e magari per il founder che non è tecnico c'è una difficoltà nel capire se sta facendo un buon lavoro. Come sono le KPI o i consigli che hai per capire se sta facendo quello che deve? Allora ce ne sono vari di questi KPI, anche qui dipendono un po' dal settore, dal tipo di prodotto di cui stiamo trattando e anche dallo stadio dell'azienda. Diciamo che per il sito di una startup alcuni risultati che devono emergere sono ad esempio il rispetto delle date di rilascio che ci si è posti, il che non significa che il reparto tech lavora come degli schiavi per rispettare quella data, che si è governato bene il processo per fissare bene una data e gestire eventuali imprevisti che ci saranno sicuramente, quindi è un po' questo il concetto. Quindi sia per le demo, se ad esempio dobbiamo mostrare qualcosa degli investitori o a qualche utente di test, che per i rilasci veri e propri. Quindi questo è un elemento già importante in una startup, perché il time to market è fondamentale. Infatti in queste fasi possiamo anche accettare di avere una qualità più bassa del codice o anche darci l'idea che probabilmente dopo che il prodotto sarà validato buttiamo via tutto e lo rifacciamo per bene dopo. Perché veramente è più importante time to market che non fare le cose proprio fatte benissimo. Quindi il sito in una startup deve mirare molto a questo. Poi in generale il prodotto deve far sì che rispetti alcuni obiettivi di scalabilità, cioè se ci siamo posti l'obiettivo che facendo anche delle campagne, tenendo i primi utenti, abbiamo mille utenti al giorno, ecco quell'applicazione, quella piattaforma deve far sì che con mille utenti funzioni. Oppure anche altre caratteristiche di sicurezza, di privacy. Quindi in queste in fase di startup sono i KPI più importanti. Quando invece parliamo di un'azienda più grande, più avviata, dove magari ormai il prodotto è stabilizzato, siamo in una fase anche di dominio del mercato o comunque di crescita, di scale up, allora anche qui cambia un po' il ruolo proprio del sito in generale, perché il sito è un animale in evoluzione, non è mai lo stesso. Man mano che cambia l'azienda cambia anche l'esperienza e il livello del sito. Quindi certe volte deve ricominciare da capo, ecco perché anche qui di nuovo è importante un mentore, anche per un sito che già ha esperienza. Un'azienda più grande degli elementi sono il fatto di assicurarsi che ci sia allineamento strategico, quindi ci dovrebbe essere una roadmap tecnologica condivisa con la direzione. Dobbiamo verificare che ci sia un ambiente salutare lato team di sviluppo. Allora se ci accorgiamo che c'è un ambiente tossico, che c'è un turnover eccessivo, posto che in questo periodo il turnover è a prescindere elevato, oppure se facciamo delle indagini di soddisfazione interna, vediamo che il reparto tech non sta andando bene, o non siamo aggiornati su alcuni aspetti di ultime tecnologie, ecco qui il sito non sta lavorando bene. Quindi queste qui sono entiche che può portare avanti, può controllare l'imprenditore, il management eccetera, che danno un'idea se l'azione complessiva del sito è positiva oppure no. Però anche qui di nuovo mi ricollego quello che dicevo prima, che il management e il sito devono comunicare così spesso e affrontare tutti i problemi in modo tale che la misurazione e la valutazione di questi KPI diventi quasi inutile, ecco cioè deve diventare una cosa quotidiana il fatto di avere il polso su queste situazioni. Grazie a tutti.